Reginald e Tina Hai un uccellino sulla testa? Tina! Ho qualcosa sulla testa? Sì! Hai un uccellino sulla testa? Ho un uccellino sulla testa! Ho ancora un uccellino sulla testa? No! Adesso hai due uccellini sulla testa! Che cosa ci fanno due uccellini sulla mia testa? Sono innamorati! Gli uccellini sulla mia testa sono innamorati! Sono due piccioncini! Piccioncini! Come sai che sono piccioncini? Stanno facendo il nido! Due uccellini stanno facendo il nido sulla mia testa! Perché fanno il nido sulla mia testa? Ho paura a chiedertelo! Ho un uovo sulla testa! Uno! Due! Tre! Hai tre uova sulla testa! Non voglio tre uova sulla testa! Allora ho una bella notizia per te! Le uova se ne sono andate? Le uova si stanno schiudendo! Schiudendo! Le uova sulla mia testa si stanno schiudendo! Cip, 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 cip! Si sono schiuse! Adesso tre uccellini piccoli sulla testa! E due uccelli grandi e un nido! Non voglio tre uccellini piccoli, due uccelli grandi e un nido sulla testa! Dove vuoi che vadano? In un altro posto! Perché non glielo chiedi di andare in un altro posto? Chiederlo? Chiedilo! Bene, prova a chiederlo! Scusate, uccellini, potreste andare da un'altra parte? Certo, ha funzionato! Ciao! Adesso non ho più uccellini sulla testa! Grazie, Tina! Grazie tanto! È stato un piacere!